oggi abbiamo avuto l'opportunità che la scienza può essere anche intrattenimento la scienza è intrattenimento o comunque è un modo diverso di raccontare la scienza la scienza è rigore però questo rigore può essere anche declinati qualcosa di più interattivo più comprensibile è anche divertente l'elemento comune da queste storie è la curiosità la curiosità poi abbiamo visto tante storie legate proprio anche alla natura sì la curiosità non abbiamo raccontato storie di geni ma storie di persone che poi hanno incontrato la scienza nel loro nel loro percorso la curiosità è guardarsi intorno intorno è il mondo capire il mondo è alla base di tantissime scelte di questi ricercatori